E dove avete intenzione di condurmi a quest'ora? In quest'ora, da quest'ora. E a quest'ora, in quest'ora, in quest'ora. Grazie. Oh, che mano strano. Per chi? C'è due pollici? No, 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 è strano quello che c'è scritto. Tu hai incontrato un uomo dal quale avrai tutto quello che desideri. È ovvio. Tu l'abbraccerai. È ovvio. Lo bacerai con passione. Questo fa il duopo. E dopo il bacio, tu. Beh, va bene, non mi raccontare come va a finire. Altrimenti non mi diverso. E volentieri a Napoli. E perché non ci torni? Imbarcati insieme a me. Non posso. Appena metto il piede su di una nave, mi arrostano, mi arrestano. Sono tagliente. Come? Già, tu non sai. C'è una taglia sulla mia testa. Ma io non vado mica a Napoli su un piroscapo. Ma no, vai a piedi. Ho il mio panfilo. Come? Sei ancora in pigiama? Sì, già, veramente. Cosa fai col cappello in testa? Totò Lemocore non si toglie il cappello davanti a nessuno. Ma se eri solo? Non si toglie il cappello perché non c'era nessuno. Su, andiamo, vestiti. Il mio panfilo prenderai largo fra due ore. Beato lui.